ciao ragazzi bentornati anche quest'anno riproponiamo la fiera del software come sapete c'è sia a febbraio e anche ad ottobre quindi adesso manca veramente poco e quindi ci sarà sabato 11 domenica 12 in sabato dalle 9 fino alle 19 e domenica dalle 9 30 fino alle 19 quest'anno però c'è qualcosa di nuovo una cosa molto interessante infatti io ringrazio tutto lo staff della fiera e in particolare marco cavallari ovvero presidente del club nexus ci hanno appunto dato la possibilità di avere uno stand dedicato a youtube dove troverete questo mega poster con scritto youtube e cazzi e mazzi e tutti i loghi di coloro che bene o male ci saranno infatti come avete letto sopra il cartellone ci sarà il raduno nazionale degli youtuber del software il sabato ci sarà solamente lo stand espositivo con la tv con dei video cose così io sarò lì presente quindi se volete venire a fare due chiacchiere io ci sono mentre domenica alle ore 14 mi raccomando scrivetevelo su un braccio ricordatevelo c'è il raduno dove ci saranno implementate alcune cose interessanti allora ci sarà una presentazione dove facciamo due chiacchiere ci conosciamo un attimo dove ci sarà la storia delle youtuber dove ognuno di noi dirà la appunto la propria storia come ha cominciato a fare video perché li fa bla 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 poi faremo delle recensioni improvvisate qui ci sarà da divertirsi perché diremo degli sfondoni in pratica ci verranno forniti alcuni fucili a random e noi dovremo cominciare a recensirli passandoceli uno per uno quindi chiesa cosa salta fuori poi un'altra cosa molto figa il box delle domande ovvero noi gireremo con una scatola e dei fogliettini anche una penna cominceremo andare dalle persone gli facciamo scrivere delle domande che vogliono fare o sul software o se ci conoscono anche noi e poi successivamente verranno estratte e ognuno di noi risponderà e poi dopo le conclusioni baci abbracci felici e contenti quindi ragazzi se volete passare una giornata veramente interessante unica perché comunque non è mai stata fatta una cosa così anzi si è stata fatta a novegro quindi ringrazio anche leon per aver fatto questa iniziativa e io l'ho voluta lanciare in una maniera un pochino diversa e niente io spero che sarete in tantissimi voglio fare tante foto tanti video noi ci vediamo l'undici e il dodici raffaele softeer ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti